Oggi facciamo una veloce potatura di questa pergola di uva americana, anche chiamata uva fragola, ci sono le varietà bianche e ci sono le varietà rosse. L'uva fragola ragazzi ve la consiglio di coltivarla perché quando voi in casa come l'ho io qua vicino al giardino ci fate una bella pergola, sotto davvero state davvero freschi perché fa queste foglie diciamo molto grandi, ombreggia molto, non è attaccata poi dalle patologie fungine quindi difficilmente si va a trattare l'uva fragola, ecco che possiamo fare davvero dei grappoli biologici, non viene attaccata dalla filosera, non viene attaccata dalla peronospora, difficilmente viene attaccata dal mal bianco, insomma è una varietà molto molto resistente. Inoltre ve lo consiglio per il fatto che da quei grappoli succosi dove possiamo estrarci questo succo e farci delle ottime gelatine, delle ottime confetture, possiamo farci questo succo e berlo insieme ad un dolce, insomma ci possiamo fare un sacco di cose, ma il vino no, poi vi dico in fondo al video se vi va di seguirlo perché non ci si può fare il vino è vietato. Inoltre poi la possono potare anche i meno esperti perché perché l'uva fragola è davvero una vecchia varietà americana e anche se noi lasciamo tre o quattro tralci che lasciamo lo sperone piuttosto che 6-7 gemme, qualsiasi tralcio nuovo nascerà darà sempre frutti e grappoli identici. Diversa invece la nostra uva continentale, ad esempio l'uva Italia se io lascio un tralcio da 6 gemme la prima gemma produce poco, la seconda terza e quarta produce abbondantemente, le ultime gemme invece riproducono poco, quindi bisogna saperle potare. L'uva fragola anche i meno esperti possono potarla tranquillamente. Dai andiamo subito a fare quattro tagli e sistemiamo la nostra pergola. Siamo qui di fronte ad una pianta di uva fragola fatta crescere su con tre rami principali, una pianta longeva avrà i suoi 25-30 anni di età e questa è allevata come vedete a pergola. Anche l'uva americana come la nostra uva da tavola e l'uva da vino va potata sempre in inverno, massimo entro la fine di gennaio, entro il 15 di febbraio, perché? Perché è una pianta che muove molto presto e se noi andiamo a tagliare la vite fuori questo periodo la pianta perde molta linfa, si dice che l'uva piange, se perde molta linfa perde molta energia e questo non va mai bene. Adesso che abbiamo capito già il periodo della potatura iniziamo subito a vedere quello che c'è da fare. Come tutte le viti anche l'uva americana produce i grappoli sui rami dell'anno che nascono sui rami di un anno, sembra uno scioglilingua ma adesso vi spiego meglio. Dalle gemme dei rami di un anno, che sono questi qua di colore rossiccio, a primavera nasceranno i tralci che porteranno le foglie, i viticci ed i grappoli. Siccome l'uva fragola è una varietà molto vigorosa deve essere potata ed allevata come una vite da tavola e non da vino. Occorre sempre lasciare un certo numero di gemme affinché nascano un giusto numero di tralci, in modo che la pianta abbia un buon equilibrio tra la vegetazione e la produzione. Per piante adulte ed in buone condizioni di salute come questa si lasciano in genere dalle 15 alle 20 gemme. Di questa pianta in particolare si andrà ad eliminare un ramo principale, quello centrale, e se ne lasceranno solamente due, i due laterali. Ad ogni ramo principale lasceremo un tralcio fruttifero subito appena la pianta è arrivata sopra la pergola ed un secondo posto vicino al muro, in modo che i tralci che nasceranno a primavera avranno il massimo spazio e sviluppo per crescere. Quindi facendo il riassunto 16 gemme, numero appunto compreso tra 15 e 20. Una volta stabiliti quanti tralci devo lasciare e quante gemme per ogni tralcio è facile fare il lavoro. Prendi il tralcio, conto quindi quattro gemme, dall'ultima gemma a mini distanzio di circa due centimetri e faccio un taglionetto. La stessa operazione la farò per tutti gli altri tralci fruttiferi, tutto il resto andrà eliminato. Come avete visto è davvero semplice potare l'uva americana allevandola a pergola. Come promesso vi dico anche perché non si può fare il vino con l'uva fragola. L'uva fragola contiene sia le cere che le pectine, addirittura le pectine ci aiutano proprio nel fare le marmellate, però nella fermentazione, nella lunga fermentazione, quindi quando io metto a fermentare l'uva fragola, il mosto per farci il vino, lì invece di trasformarsi solo in etanolo c'è anche la trasformazione in metanolo e il metanolo è davvero pessimo per l'essere umano ragazzi, porta anche alla cecità. Io ragazzi vi saluto così un abbraccio a tutti, mi raccomando sempre prodotti bio, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao alla prossima!